Mi chiamo Felice Ciucci, sono allenatore responsabile della scuola calcio. Io ho una squadra allena di 2014, in più gestisco tutte le squadre della scuola calcio. Preparo le partite, organizzo tutti gli eventi, quello che serve in questa società, l'Accademia Mundial. Stiamo crescendo a livello tecnico, a livello motorio, stiamo cercando di preparare questi ragazzi per un domani, per poterli portare il più avanti possibile. Siamo cresciuti molto già dall'anno scorso, quest'anno stiamo a circa 90 ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di aumentare, di portare più persone di questa zona in questo campo. La base della scuola calcio è il divertimento, la prima cosa è questa. I ragazzi sono qua contenti di divertirsi, andare via con il sorriso, non essere l'agonismo che non ci deve essere in questa età, ci deve essere solo un divertimento. Io ai genitori dico di far divertire i ragazzi, portarli qua tranquilli e tranquilli vanno via i ragazzi e farli divertire, solo con il divertimento i ragazzi crescono.